Ebbene, lo chiamo alla pace e lo chiamo anche all'Europa, che forse è il frutto di questa pace, l'ha erediata da quella generazione, quella che ha espresso Andrea Gasperi, e forse dobbiamo continuare a costruirla come appunto quel progetto che è soltanto iniziato, che deve crescere, deve andare avanti. Certamente che, peggio che gli appelli sono tutti per le parti, ma anche per la terza parte, che siamo noi, che è la Guardia Internazionale, che deve provare a fare tutto il possibile per capire, per trovare un'idea uscita alla competenza.